Buonasera Gianluca, buonasera allo studio di Ottogol, buonasera ai nostri telespettatori Italian Sport Awards, manifestazione giunta alla decima edizione Gran Galà del Calcio che riparte dopo un anno di stop causa pandemia. Noi siamo in compagnia del tecnico del Benevento Fabio Caserta tra i premiati di stasera in virtù della straordinaria promozione conseguita lo scorso anno col Perugia dalla Lega Pro alla Serie B e un lavoro straordinario che il mister sta proseguendo in questa avventura al Benevento. Mister, buonasera innanzitutto complimenti per questo premio, quattro vittorie consecutive, superato un momento delicato anche con la fiducia rinnovata della Presidenza che è servita a lavorare con serenità e adesso all'orizzonte c'è questo Benevento Monza di domenica. Innanzitutto grazie per i complimenti, è un premio che voglio condividere con i ragazzi che sono stati con me l'anno scorso perché grazie a loro che sono stati i veri protagonisti abbiamo fatto un anno veramente bello, non facile perché anche lì dopo una retrocessione siamo ripartiti, abbiamo fatto veramente insieme ai ragazzi qualcosa di bello e importante. Adesso quest'altra sfida molto affascinante che è Benevento, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà qualche mesetto fa, però i ragazzi nel momento più difficile sono stati molto bravi a non mollare e continuare a lavorare, veniamo da un periodo sicuramente positivo per quanto riguarda soprattutto i risultati, però bisogna continuare a lavorare perché ancora il percorso è molto lungo, difficile, domenica ci sarà una partita altrettanto difficile, impegnativa, però prima di domenica dobbiamo cercare di fare bene in Coppa Italia con la Fiorentina e cercando di prepararla nel migliore dei modi. Assolutamente, allora Gianluca le domande da studio, mi faccio io portavoce delle vostre domande, delle vostre considerazioni con Fabio Caserta, prego. Sicuramente caro Angelo ci saranno domande da parte di Nando Orsi, Paolo Specchia e Sonia Lantella, devo dire io dico solo una cosa, questo premio che ha vinto Fabio Caserta per la promozione dalla C alla B con il Perugia, un pezzo di questo premio è anche di Salvatore Elia che è qui nei nostri studi, vorrei che il mister dicesse una cosa su questo aspetto. Assolutamente, allora Gianluca Gifuni giustamente sottolineava che un pezzo di questa promozione dalla C alla B con il Perugia dello scorso anno è stato anche costruito da Salvatore Elia che è in studio con gli altri ospiti, lì a otto gol, mister. È stato uno dei protagonisti come tutti i suoi compagni, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno perché come ho detto prima sono stati bravi, molto bravi, non era facile, non era assolutamente facile vincere un campionato, loro nei momenti, anche lì abbiamo avuto qualche momento di difficoltà però anche lì sono stati bravi ragazzi e per questo voglio condividere questo attestato di stima sia con i ragazzi che con tutto il mio staff perché veramente abbiamo fatto un lavoro eccezionale e adesso speriamo di fare altrettanto, di fare un lavoro importante anche quest'anno e Elia sarebbe anche ora che è troppo tardi per andare, deve andare a riposare perché già siamo fuori orario Con questa raccomandazione sentiamo altre domande Gianluca Allora io saluto Fabio Caserta e spero quest'altro anno quando faremo quest'altro collegamento di ritrovarla ancora qui perché vuol dire che avrà vinto di nuovo un'altra cosa per un'altra promozione quindi io l'augurio che gli faccio è questa qua e poi dico che la domanda è dopo tre partite dove il Benevento ha perso e c'era un po' di depressione come si lavora sulla squadra? Si lavora a livello mentale, a livello tattico? Cioè qual è lo spunto che poi ha fatto venire fuori quattro partite totalmente diverse dalle tre sconfitte? Perché sembrava veramente un Benevento totalmente cambiato Sì allora Nando Orsi intanto si augura che l'anno prossimo siamo di nuovo qui per ricevere un altro premio, significherebbe anche un'altra promozione per Fabio Caserta Al di là di questo chiedeva dopo quelle tre sconfitte di fila sono arrivate queste quattro vittorie Lei su cosa ha lavorato mister? Più su un aspetto mentale, più su un aspetto tattico Qual è stata insomma la molla, lo spunto che le è servito per rigenerare questa squadra e rivoltarla sostanzialmente, ribaltarla anche dal punto di vista mentale? Credo che prima delle quattro vittorie consecutive quello che mancava a questa squadra era solo il risultato finale perché se andiamo ad analizzare le tre sconfitte consecutive sono frutto di errori magari individuali su col Brescia potevamo vincere poi alla fine abbiamo perso La squadra a mio avviso è stata molto brava, i ragazzi sono stati molto bravi a non abbattersi perché quello che chiedo sempre a loro è nei momenti di difficoltà non bisogna mai deprimersi bisogna continuare a lavorare, nei momenti dove le cose e i risultati arrivano non bisogna saltarsi ho cercato di lavorare sull'aspetto mentale, fisico, ma soprattutto sull'aspetto mentale che è quello che magari quando i risultati non arrivano è quello l'aspetto più importante perché poi alla squadra, ripeto, le prestazioni sono sempre fatte poi episodi ci hanno condannato però è un momento che bisogna metterlo da parte bisogna ricordarsi soprattutto quei momenti non è un momento adesso che le cose vanno sempre bene ma bisogna ricordarsi i momenti negativi e da lì ripartire e cercare di fare sempre bene Prego, ancora Paolo Specchia Spero che il nostro amico faccia sapere la mia stima e stenda i complimenti a Caserta Caserta lo conosco da Castellamare volevo chiedere se riuscirà a riproporre anche al Benevento qualche palla inattiva di quelle che facevano godere io l'ho seguito, ha vinto qualche partita con la Iguestabe grazie alle palle inattive lo farà anche qua speriamo di vederlo presto perché dovrebbe far bene anche qui e quindi costruisce ulteriori consensi nella sua carriera Allora i complimenti alla stima mister di Paolo Specchia che insomma la conosce da tempo chiedeva se riproporrà qualche palla inattiva decisiva come nel suo stile di allenatore tante volte Specchia l'ha visto a Castellammare e ha focalizzato l'attenzione proprio su questo particolare tecnico tattico grazie dei complimenti lo saluto con tanto affetto forse su questo aspetto bisogna lavorare tanto perché questa squadra ha delle potenzialità importanti sia perché abbiamo dei battitori molto bravi sia abbiamo gente che sa andare a colpire in area quindi dobbiamo lavorare tanto perché credo tanto alle palle inattive bisogna lavorare ancora di più perché in alcuni momenti non li facciamo al 100% bisogna crederci di più perché una palla inattiva ti può fare vincere una partita come le palle inattive a volte una partita fatta bella, bene magari una palla inattiva degli avversari perdi la partita noi dobbiamo sfruttarle cercare di sfruttare tutto sia la manovra, l'azione di movimento ma soprattutto le palle inattive che nel calcio di adesso vediamo che spesso e volentieri le partite si risolvono a calcio piazzato Gianluca Tonia Lantella Sì allora vabbè rinnovo i complimenti che ho avuto modo di fargli già a Terni e guardo al domani con la Fiorentina turnover in vista della gara col Monza oppure può essere l'occasione per collaudare meglio i meccanismi e poi chiaramente l'obiettivo di voler passare il turno e affrontare il Napoli Allora i complimenti rinnovati dopo Terni anche da Sonia Lantella che chiede in vista della Fiorentina in vista della Coppa Italia sarà turnover o sarà anche la possibilità di affinare dei meccanismi per provare chissà a vincere quella partita perché all'orizzonte ci sarebbe una sfida suggestiva con il Napoli No pensiamo alla Fiorentina non pensiamo ad altro pensiamo al di là di chi giocherà qualcuno sicuramente che ha trovato poco spazio in questo inizio di campionato qualcuno deciderà di farlo giocare dall'inizio però è normale che questa partita non bisogna sottovalutarla non bisogna pensare che sia una partita di Coppa Italia che non interessa a noi interessa fare bella figura al di là del risultato finale non bisogna pensare nient'altro non mi piace neanche pensare alla partita col Monza perché c'è una partita mercoledì non dobbiamo avere quella mentalità di una squadra che tutte le partite sono importanti e al di là di chi giocherà dall'inizio che subentrerà sarà una partita vera a tutti gli effetti perché di fronte ci sarà una squadra forte molto forte il calcio gioca molto bene il campionato italiano sta facendo un campionato importantissimo quindi concentriamoci su questa partita poi penseremo al Monza non pensiamo ad altro io cercherò di mettere in campo la migliore formazione cercando di far giocare qualche elemento che ha giocato di meno Gianluca? Va benissimo così noi salutiamo e ringraziamo te Angelo e Mister Caserta ovviamente in bocca al lupo e complimenti per questo premio e auguriamoci davvero che come diceva Nando Orsi possa ripetersi il prossimo anno un premio analogo che significherebbe appunto promozione in Serie A o diretta o in un altro modo l'importante è che ci sia Sì, ancora complimenti dallo studio Mister grazie Gianluca